Copri Simo, copri Simo. Non c'è bisogno che ti chiedi. No, non mi ha detto mettiti così. No, no, stai con me. Fuori di lì, basta che ci siamo tutti. Come sono cercato di... Allora. Simo, una cantastorie. Ciao da Marco. Giulia. Ciao Morgan. Carlos. Ciao a tutti, noi siamo in Materdea e siamo qui... Salutate. Ciao, ciao. Ah, ok. E siamo qui al Domus Giano Studio per l'ultima prova di Materdea. Ma ne ha fatta una. Una. Una, una fatta per te. Non sei sicuro per te che non ti ripena dei pezzi. Per sé che non ti ripena dei pezzi. Ok, allora, per l'ultima prova di Materdea in vista del concerto di sabato 7 ottobre a Corsico. Che in realtà è l'ultimo concerto prima... E allora parla tu, parla Morgan, parla tu. Prima dell'uscita del nuovo album, ultimamente. Benissimo, prima dell'uscita del nuovo album. Quindi vi aspettiamo sabato 7 ottobre al Caffè di Una Volta di Corsico in provincia di Milano per l'ultimo live di Materdea prima dell'uscita dell'album. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao.